Musica Buonasera a tutti siamo qui dal Neoxfoga con la serata universitaria Master l'unica a Napoli Abbiamo qui ragazzi allora vi dico un segreto io non so assolutamente chi sono questi due individui alla mia destra e alla mia sinistra Anzi alla mia destra e alla mia sinistra allora so che uno fa il vocalist e uno fa il dj Uno starriccione tipo al papete una cosa del genere della roba lì e un altro non so manco dove c***o suona Allora parliamo di loro io sono Gaia Fox piacere 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 allora facciamo le cose per bene ci presentiamo un saluto a tutte le belle donne di Napoli un particolare saluto alla Gaia Che questa sera fa un po' la spiritosa però noi le donne spiritose piacciono molto E volevo con l'occasione ringraziare e salutare tutte le belle donne di Napoli eccezione della Gaia perché non rientra nella categoria Ok dopo che mi ha dato l'eccesso parliamo di te Allora tu sei il dj ovviamente allora dici un po' dove suoni i tuoi progetti dove ti vedremo e dove potremo seguirti Allora io sono un po' girovago come il mio socio quindi vado dalla riviera triatica alla riviera tirrenica stasera sono a Napoli Beh progetti discografici lavoriamo sulle spiagge lavoriamo in giro sono tanti i locali diventerai pesanti a dirteli intanto stasera sono qua mi sono divertito da morire Eh certo allora senti caro amico nostro ti sei divertito stasera? Molto molto veramente un pubblico bellissimo un'atmosfera fantastica noi intanto ci presentiamo io sono Jimmy Voice il socio quell'altro che dovrebbe suonare qualcosa si chiama Simone Farinelli E questa sera... Ah sì sì Simone Farinelli in realtà pensavo ti chiamassi Stefano però Simone va benissimo mi piace di più Allora sveliamo il dubbio non esiste Stefano Farinelli lui è Simone Farinelli Lui è Jimmy Voice È Jimmy Voice oh ma nella foto eri un altro? Eh in foto vengo meglio lo so dal vivo è un po' peggio però bisogna pure accontentarsi nella vita no? Secondo me dobbiamo ringraziare il Photoshop Allora ragazzi prima cosa sono stata veramente molto contenta che siete venuti qui da noi avete visto la serata universitaria sono ragazzi molto giovani Vi hanno acclamato siete piaciuti tantissimo siete piaciuti anche a me perché sono molto critica e quindi veramente vi ringrazio di essere venuti qui Ragazzi allora dove vi possiamo seguire magari ad agosto avete qualche date qualcosa? Come no allora a agosto siamo un po' in giro per tutta l'Italia andiamo dalle tappe tutto il litorale romano quindi le varie serate fiumicino Ostia eccetera eccetera terracina la costiera della provincia di Latina sia dall'altra parte quindi Riccione, Fano, Ancona e tutta la costa diciamo est dell'Italia quindi da ovest a est ci spostiamo sempre molto molto volentieri Il famoso est Italia Isola d'Elba, Terracina insieme a lui, Peter Pan Ah ma scusate fate coppia fissa? No fissa no però usciamo parecchio insieme A volte vi tradite? Sì perché poi ci fanno i complimenti le ragazze come te che andiamo bene e allora usciamo insieme Io non ho fatto complimenti, ah sì l'ho fatto Sì vabbè l'avevo letta quella cosa Ti stai rimangiando tutto? No no Allora facciamolo per bene, un saluto agli amici in diretta a questo momento Siete su Master Television Un saluto dalla Gaia, Simone Farinelli, Jimmy Voice, la notte che fa la differenza Napoli by Night, buonasera, ciao belli Mi sa che questo ragazzo quest'inverno avrà da lavorare Metterò una buona parola Ragazzi io vi ringrazio, siete stati molto simpatici, molto bravi Vi aspetto quest'inverno sperando che sarete ancora nostri ospiti Io vi ringrazio, saluto tutti, salutate il pubblico universitario dell'unica serata a Napoli che si chiama Master Qui al Neo Ex Voga un bacio a tutti da Un bacio da Jimmy Voice, buonanotte a tutti, ciao E anche un bacio dall'anonimo Un bacio Simone Farinelli Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti